Continuano a registrarsi a Sala Consiglia, ma in tutto il Vallo di Diano, casi di violenza gratuita e motivata nei confronti di cani. Un atteggiamento denunciato più volte dall'OIPA, Salerno e Provincia, rivolgendosi sia alle istituzioni che ai cittadini, affinché venga sollevato quel velo di omertà e silenzio che protegge chi continua, con cattiveria, ad accanirsi verso esseri indifesi. L'ultimo caso in ordine di tempo si è verificato nella serata di ieri, ma grazie al pronto intervento dell'OIPA e della dottoressa Doris Salluzzi, questa mattina è stato possibile tirare un sospiro di sollievo per il piccolo Jack, come è stato battezzato dai soccorritori. Un ennesimo caso che arriva dopo gli assurdi e dimotivati atti di crudeltà violenta, già denunciati più volte, e su cui si cerca ancora di fare totale chiarezza che hanno visto protagonisti Gaia e Galileo, entrambi rimasti vittime di spari da parte di esseri crudeli. Gaia, incinta, è rimasta vittima della ferocia dell'essere umano lo scorso febbraio. I soccorsi hanno provato a salvare la vita dei piccoli, ma non c'è stato nulla da fare, mentre Gaia, fortunatamente, dopo il triste e doloroso episodio che l'ha assegnata per la vita, è riuscita a trovare una famiglia amorevole che si reprenderà a cura di lei. Un episodio che purtroppo si è ripetuto sempre a Sala Consilina, pochi giorni fa Galileo è stato investito da un'auto e nelle cure successive si è scoperto che anche lui era stato sparato. Oggi il caso di avvelenamento, ancora una volta a Sala Consilina, un ennesimo caso che impone un immediato intervento con l'OIPA che si rivolge direttamente all'amministrazione comunale al fine di prendere seri i provvedimenti per frenare questa scia di atti violenti nei confronti di indifesi cani che continuano ad essere vittime di inaudita crudeltà. Su quanto accaduto si registra anche l'intervento di Amanda Cozza dell'associazione Quala Zampa F. Dopo le tristi e ghiaccianti storie di Gaia e Galileo, ora un altro povero cane viene avvelenato, ma per ogni violento e incivile che fa l'oro del mare ci sono altrettanti cittadini che li soccorrono e li salvano. La crudeltà va affermata, rimarca Decisa Amanda Cozza, non si può essere tolleranti contro una violenza sempre più diffusa. Inoltre, rivolgendosi alle amministrazioni comunali e all'ASL, invita ad una più intensa campagna di sterilizzazione e rivolgendosi ai cittadini dice Non fate cucciolate domestiche e non consegnate cuccioli senza microchip per evitare di alimentare il randagismo.